a me mi ha insegnato l'altro il lavoro e i compagni che adesso saranno come spero che voi non vincite di carci più la motore tra le partner e la lettera quando viene in mente qualche collega per me è un piacere, è un ragione sapete che siamo sempre ancora simili al lavoro che torna l'altro un'attenzione a chi non ha potuto festeggiare con noi perché si è andato un po' bene a chi non è presente perché non bisogna avere né timore né paura ne riesce a rimanere il pensiero e ne di chiamare un po' bene in che modo, quale appiglio, quale ancora posso trovare che vi possa dare almeno la solidarietà la solidarietà che è il principio fondamentale di una società e se noi ci riteniamo una società unica in quanto valoratori, in quanto persone che mangiano lo stesso pane aspetta, un momento, un momento si bambino un po' bene, io集o che ci sono è una società un'attenzione a noi che ci stanno andando in quanto riguardano la società se ne ha un made in quanto riguardano la società anche se non non gli puoi fare a prendere il momento in quanto riguardano la società Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info